ciao a tutti oggi guardiamo alcuni esempi pratici di potatura del guillot non ripeto le regole generali della potatura del guillot al quale ho dedicato un video di cui vi lascio il link nel testo a descrizione di questo video in questa pianta questo sarà il taglio del passato questo è il tralcio che seleziono per la produzione dell'anno sul quale eseguirò una spuntatura ovvero taglio del presente questo è il tralcio dal quale otterrò uno sperone tramite il taglio del futuro ecco qui un altro esempio questo è il taglio del passato ovvero del tralcio che ha prodotto il più alto dei due tralci lo uso per la produzione dell'anno quindi lo stenderemo al filo e lo spunteremo alla lunghezza desiderata tramite il taglio del presente il tralcio più basso ovvero questo lo utilizzo per ottenere uno sperone ovvero taglio del futuro in questa pianta questo ovviamente è il taglio del passato questo è il tralcio che andrò a stendere al filo e sul quale eseguirò la spuntatura ovvero taglio del presente su quest'ultimo tralcio che abbiamo a disposizione andrò ad eseguire la speronatura ovvero taglio del futuro in questa vite questo è il taglio del passato questo è il tralcio che utilizzerò per la produzione dell'anno e che sarà spuntato ovvero taglio del presente e quest'ultimo è il tralcio sul quale eseguo taglio del futuro ovvero la speronatura nel ricordarvi che lo sperone deve essere lasciato in posizione tale da limitare la crescita in altezza della pianta vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti